Dopo tre giorni di meritato riposo, da oggi pomeriggio i giocatori del Canicattì riprenderanno il programma degli allenamenti in vista dei play-off nazionali di eccellenza per accedere alla Serie D. La prossima gara ufficiale è fissata per il 19 maggio e in questi 40 giorni, tra pause, pasquali e spareggi, si conoscerà il nome dell'avversario che i biancorossi dovranno affrontare. Sarà la vincente del girone A di eccellenza della Campania e la griglia è questa, Giuliano 1928, Frattamaggiore, Afragolese e Gladiator 1924. L'attesa sarà lunga perché Giuliano e Frattamaggiore sono arrivate a pari punti, 70 in prima posizione e quindi devono giocarsi la qualificazione diretta in D attraverso uno spareggio. La perdente della sfida tra Giuliano e Frattamaggiore, che dunque sarà seconda, dovrà poi attendere la vincitrice della semifinale play-off fra Afragolese, che ha chiuso il torneo con 65 punti, e Gladiator con 57. Tagliata fuori dai play-off per un distacco maggiore di 10 punti dalla seconda, è invece la quinta classificata Afro-Napoli United, che si è fermata a 55 punti. Il Canicati invece accede alla fase nazionale dei play-off senza passare per le forche caudine degli spareggi del proprio girone A di eccellenza Sicilia, per avere distaccato di 15 punti la terza classificata Sant'Agata e di ben 20 punti la quinta Dattilo. Tra l'altro l'ultima squadra incontrata e battuta dalla formazione allenata dal tecnico Nicola Terranova. Adesso inizia la seconda parte della stagione per il Canicati, dice il tecnico Terranova, che affronterà con grinta squadre blasonate per raggiungere un altro grande traguardo. Il mio desiderio è quello di voler riportare in questa città e con il Canicati Calcio il calcio che conta. Sarà dura ma non mancherà l'impegno mio, della squadra e della società per far questo, affinché questo desiderio diventi realtà. Il calcio, a Canicati dopo aver conosciuto antichi splendori, ha avuto un lungo oblio, uscendo quasi dalla scena calcistica dilettantistica siciliana. Oggi ha cominciato a brillare in tutti i campi della Sicilia e oltre allo stretto, grazie proprio a questa società e a questi giocatori. Rivadisco ancora una volta che il mio sguardo, così come quello della società, è rivolto alla disputa dei playoff nazionali per tentare il salto in D. E in questi 40 giorni che ci separano dal primo incontro, l'unico mio pensiero ed obiettivo è allenare la squadra per affrontare i playoff nelle migliori condizioni fisiche e mentali possibili. Con lo staff tecnico stiamo già lavorando duramente per questo. Amo questa città e la sua storia calcistica e solo al termine dei playoff mi confronterò con la società. Chiarisco che nelle ultime dichiarazioni ci tenevo semplicemente a ringraziare chi mi ha aiutato a realizzare tutto questo. Terranova chiarisce che era solo un ringraziamento e non un commiato, come qualcuno ha voluto intendere il suo ultimo pensiero. È stata una stagione calcistica e entusiasmante che a fine campionato mi sembrava doveroso, aggiunge il tecnico. Per quanto riguarda il futuro, nessuna decisione è stata presa ad oggi. Non è il momento, il mio pensiero è soltanto quello di cercare di andare in D.